Antonella Ponziani, una delle attrici più importanti del cinema e della tv italiana, premio David di Donatello e Nastro d'Argento come migliore attrice, sposa la causa della Fondazione Emanuele Scifo, diventandone ambasciatrice e testimonial ufficiale. Il creatore della Fondazione, Emanuele Scifo, finalmente inizia a vedere concretizzato il suo sogno di affermazione della Fondazione e ha reagito così alla notizia dell'adesione della Ponziani. Innanzitutto sono onorato dalla decisione di Antonella Ponziani di diventare ambasciatrice della Fondazione e spero di poterla incontrare quanto prima, magari in una serata di beneficenza, per trasmettere a lei l'amore del nostro progetto. Per poter sostenere la Fondazione Emanuele Scifo basta andare sul sito ufficiale www.fondazionescifo.com